Eccoli qua partiti! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 sull'acqua e così vediamo un attimo il giro. Adesso non appena ci avviciniamo, vi sa portare notizie più precise sui numeri e sulle posizioni. Prima qua, ecco, in acqua. Le bracciate sono ancora molto fluide, tranquille. Nessuno ancora ha staccato. Pronti per la seconda batteria? Si stanno schierando in linea in partenza? Ok. Quasi pronti? In cambi, la tensione dice in moto. E' la seconda batteria, spara in fuoco a giù perché ci sono proprio attuato per la partenza della seconda batteria. E' pubblico in più di Ayan. Continua su spartare in un'altra parte qui. L'altra parte è la meraviglia per fare la partenza. Adesso per fare paragonia, non ne so se la guardia da panela. E' una meraviglia per fare barbosa. Se avevo l'altro, andavo a letto, lo guardia per fare. La meraviglia per fare la banca. mito! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.